Prima seduta di Consiglio Comunale ad Altamura con la convalida degli eletti alle ultime amministrative di maggio, il giuramento del Sindaco Vitantonio Petronella, l'elezione del Presidente del Consiglio Luigi Lorusso e della Vice Presidente Gaetana Di Benedetto, le comunicazioni sulla Costituzione dei gruppi consigliari. Noi lavoreremo sempre sull'indirizzo politico del Consiglio Comunale e perché attiene la Giunta sul lavoro di Giunta. Vorrei ricordare che il Sindaco ha la gestione e l'applicazione insieme all'amministrazione, ma sempre dell'indirizzo politico, quindi noi pensiamo di collaborare apertamente anche sulle proposte della minoranza. Una maggioranza a 15 consiglieri più il Sindaco a fronte di 9 consiglieri di opposizione, tra cui spiccano i candidati a Sindaco Giovanni Moramarco, suo diretto avversario al ballottaggio, e Michele Loporcaro, espressione del Movimento 5 Stelle. Quale sarà il suo ruolo all'opposizione? Certo, sarà un ruolo prima di tutto di analisi, un ruolo di proposta, ma soprattutto un ruolo di verifica di quello che sarà l'operato del governo cittadino. Quali questioni porterà l'attenzione del Consiglio Comunale? Allora, intanto occorreva, e l'ho fatto, ringraziare chi ci ha consentito di stare qui e fare il punto su queste elezioni, che sono state molto particolari. Il rischio che paventiamo e che bisogna scongiurare è quello che Altamura non abbia una reale opposizione, un reale controllo. Per questo soprattutto ci batteremo. Durante il Consiglio Comunale il Sindaco ha reso nota la composizione della Giunta, con le deleghe assegnate a ciascuno dei sette assessori. Ad Angela Miglioni con il ruolo di Vice Sindaco e le deleghe alla cultura e alle politiche sociali. A Pasquale Crapuzzo le deleghe finanza, bilancio, programmazione e patrimonio. Lucia Diele sarà assessora all'istruzione e all'edilizia scolastica. A Tommaso Lorusso le deleghe alle attività produttive, polizia locale e area mercatale. Leonardo Martinelli sarà assessore all'agricoltura, all'ambiente e allo sviluppo economico. Michele Mirgaldi è ai lavori pubblici e centro storico, allo sport e al tempo libero. Cecilia Tafuni è alle politiche giovanili, alla mobilità, viabilità e trasporti. In capo al Sindaco restano le deleghe urbanistica e turismo. L'ufficializzazione dei ruoli in giunta è avvenuta con il mio decreto del numero 25, se non erro, del 24 luglio e quindi la giunta è completa e è composta con sette componenti più il Sindaco. È rispettata la componente femminile e quindi credo che sia così. Quali saranno i suoi prossimi provvedimenti? I prossimi provvedimenti saranno collegati all'unione dei quartieri. Sono già attivi ma per questo ci servirà il Consiglio Comunale, quindi molto probabilmente dobbiamo attendere. Stiamo lavorando comunque sulla sicurezza, stiamo lavorando sui rifiuti e più tardi comunicherò quello che fino ad oggi abbiamo fatto e che faremo fino a settembre. Presidente del Consiglio.